Ieri col voto della Scozia abbiamo vissuto un momento, una giornata di grande democrazia. Gli scozzesi hanno potuto votare per decidere loro se diventare o meno indipendenti della Gran Bretagna. Noi in Veneto abbiamo una legge, la legge 16 del 2014, che abbiamo scritto e portato noi in Consiglio regionale, noi di indipendenza veneta, ebbene questa legge non sta avendo l'attuazione che è prevista dal testo normativo. La giunta regionale deve darsi da fare per adottare i decreti attuativi perché anche il Veneto può votare, basta che la regione faccia il suo dovere. Io mi auguro che Zaia disponga quanto prima i provvedimenti necessari, apra il conto dove i Veneti possono versare il contributo necessario. La cosa curiosa è che questo referendum del Veneto è un referendum a costo zero per l'erario. E questo sta a dimostrare ancora di più la nefandezza, la non democrazia, il centralismo esasperato di questo Stato, che pur non dovendo pagare nulla per il nostro referendum, ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale. Fortunatamente la legge, finché la Corte non si è pronunciata, manifesta tutti i suoi effetti e quindi è pienamente efficace. Quindi, cara regione, sbrigati perché vogliamo anche noi esercitare un atto di democrazia.